Carissimi siamo qui con Sua Eccellenza Auxiliare Gianrico Luzza Auxiliare di Roma Jesteśmy biskupem Pomocicim, biskupem Rymus Rymu Sicuramente la prima cosa si sente una cosa molto forte La prima chiesa Basilica di Santa Croce dove c'è la liturgia di Venerdì Santo Cosa sente? Emozione grande e la fede sincera e profonda del popolo di Dio Che trova nel mistero della croce la sorgente della speranza Naprawdę pytam, jakie przeżycie dla księdza biskupa Bo to I Kościoł Wielki Piontek, kiedy jest liturgia Wielkiego Piontku To jest przeżycie ogromne wiary i moje i wszystkich ludzi, którzy w tym momencie uczestniczą E vogliamo chiedere un augurio perché certamente Roma, Polonia, Cracovia Cosa è molto legata Allora chiediamo quale augurio oggi per tutti, anche della Polonia Allora chiedere un augurio è che possiamo vivere con la stessa fedeltà che il vostro San Giovanni Paolo II Amuto alla croce di Cristo incarnato alla solita Amore alla croce Amore alla croce vita e solezza Amore alla croce albero della speranza I życzę Wam wszystkiego najlepszego, abyście właśnie mieli taką wiarę i abyście patrzeni w krzyż, tak, w ten krzyż, który odniósł Was, Jan Paweł II, święty, który pokazał nam jako krzyż nadziei i miłości. Grazie, Anche, Noi, Espioniamo, Patro, augurio, Signore Benedica.